Ben trovati al TG6 L'Aquila di oggi che apriamo parlando di terremoto, un terremoto di magnitudo 3.4 ha scosso l'Aquila questa mattina attorno alle 11.37. Un terremoto con profondità di 15 chilometri che ha toccato l'epicentro nel comune di Capitignano. La scossa è stata avvertita distintamente però da tutta la popolazione nella zona ovest del capoluogo. Un evento che ci porta a parlare dello sciame sismico in corso in Molise con la paura degli abitanti. Sentiamo. A 200 chilometri dall'Aquila uno sciame sismico di cui si parla troppo poco. Per gli aquilani i fantasmi vanno e vengono ogni qualvolta, sia vicino che lontano, accade una situazione anomala. Oggi a Campobasso e nel Molise, dove peraltro ci sono state abbondanti nevicate, anche le scuole sono rimaste chiuse. Fare previsioni si sa è impossibile, ma l'esperienza insegna. E come in Abruzzo, anche in Molise, secondo gli studi, il 60% delle scuole è a rischio sismico, allo stesso modo gli edifici pubblici. Uno sciame sismico che va avanti da giorni e anche la neve. L'unica vera difesa rimane la prevenzione nella costruzione degli edifici. La zona in cui stanno avvenendo le scosse, però, così come quella aquilana, è una zona ad alto rischio sismico, come del resto tutta la catena dell'Appennino meridionale. Nel 1805, a Boiano, già un terremoto fece più di 5.000 morti. Comprensibile, quindi, la paura degli abitanti, molti dei quali rimasti a dormire fuori. Gli ultimi terremoti, ricordano i geologi, sono stati devastanti. Quattro anni fa in Emilia, sette anni fa all'Aquila, quattordici anni fa a San Giuliano di Puglia. Lì nel Molise esiste la Faglia del Matese, un mostro che storicamente può rilasciare anche magnitudo superiori a sette. Il terremoto dell'Aquila, poi, ha portato anche ad un nuovo approccio nel considerare gli sciami e i terremoti. Nel capoluogo di regione, il terremoto del 6 aprile del 2009 fu preceduto da uno sciame sismico lungo, una sequenza che addirittura iniziò nel 2008 e ripresa con maggiore intensità il 16 gennaio del 2009, con scosse di magnitudo inferiori a tre, crescenti, poi, sino all'evento principale. Il resto, per la città dell'Aquila, è storia nota. Una riunione della Commissione Grandi Rischi, il 31 marzo del 2009, a pochi giorni dalla scossa devastante. Le rassicurazioni, la paura inascoltata degli abitanti dell'Aquila, che oggi chiedono a gran voce ai vicini molisani di stare sempre in guardia. Un processo, poi, che erroneamente si è fatto passare come un processo alla scienza e le assoluzioni, le vergogne, le vittime. Un'esperienza che induce ad essere sempre accanto a chi vive le stesse situazioni. A 200 chilometri c'è chi oggi rivive l'incubo degli aquilani di sette anni fa. E dopo l'esperienza del sisma dell'Aquila, i cittadini aquilani sono vicini ai fratelli del Molise. Nel prossimo servizio ascoltiamo i consigli che danno in questi casi. Lo sciame sismico in corso nel Molise evoca ricordi negli aquilani, che oggi si stringono ai fratelli molisani, dando sostegno e soprattutto consigli preziosi sulla base di un'esperienza che mai nessuno vorrebbe rivivere. Io non ho, cioè, consiglio, non è anche un consiglio, un suggerimento. Visto che ci sta sto sciame sismico, almeno di stare fuori da casa per un po' di giorni e vedere quello che succede. Dopo la nostra esperienza, insomma, non vorrei che succedesse la stessa cosa. Vabbè, ovviamente che siamo solidari sicuramente a loro, gli siamo vicini, eccetera, eccetera. Però non bisogna fare gli allarmismi, perché quello che è successo all'Aghira non è detto che succeda dalle altre parti, perché all'Aghira ci sono sempre stati movimenti sismici di due, tre gradi, quindi non bisogna fare assolutamente allarmismi. Però ora bisogna stare molto attenti, cioè tenere una bella borsa sempre a fianco al letto con degli indumenti pesanti, con una torcia, con una cosa che non fa male tenerla, non costa nulla tenerla vicino a un letto. E questi sono i consigli, però senza un tanto, tanto allarmismo. Lei, sette anni fa, come si comportò? Perché anche lì c'erano i consigli degli esperti, c'erano tante cose che si dicevano. Lei come si comportò? Allora mi sono comportato malissimo, perché c'erano proprio i consigli degli esperti. Quest'anno, proprio pochi minuti fa, ho sentito un esperto della GTV che ha risposto alla stessa domanda alla radio e ha detto che i terremoti non si possono prevedere. Quindi queste domande sono sciocche, perché non possono dire nulla. Non lo sanno, perché potrebbe avvenire una grande scossa come non potrebbe più succedere nulla. E seguire molto l'istinto. Se chi ha paura di uscire, rimanere in macchina e non rimanere in casa. Tutto questo in una città che a sette anni dal sisma ancora è segnata dalle scosse. L'ultima questa mattina, magnitudo 3.4, avvertita distintamente nella zona nord della città dell'Aquila. E ora parliamo dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Un'inaugurazione in pompa magna che ha visto la presenza di un artista di fama internazionale, il maestro Luigi Ontani, il servizio. Oltre 300 studenti e un'offerta formativa sempre più ampia sono i numeri dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila che oggi ha inaugurato il suo anno accademico. Il primo numero è quello che questo è il 46esimo anno di attività della nostra Accademia che è un asset importantissimo non solo per la città dell'Aquila ma per la regione. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è uno degli eventi in Italia e soprattutto è uno delle cinque che ha un corso di restauro. I numeri dei nostri allievi sono circa 300 così come per gli anni passati. È chiaro che ci piacerebbe ritornare rapidamente al numero degli studenti antiterremoto oltre 400 e questo lo potremo ottenere grazie a tutte le iniziative che stiamo portando avanti e che costituiranno un volano per l'incentivo degli studenti ad iscriversi ai nostri corsi. Abbiamo sei corsi importanti che in qualche misura possono assolvere tutte le aspirazioni artistiche degli studenti che vogliono frequentare la nostra scuola. L'Accademia ha avuto come ospite un grande artista, rivoluzionario e provocatorio che ha segnato la storia dell'arte degli ultimi 40 anni esponendo davvero in tutto il mondo il maestro Luigi Ontani. La mia avventura è un'avventura fra arte e vita un desiderio costante una prospettiva infinita e quindi tenterò di urlare viva l'arte. L'importanza sta alla consapevolezza di superare l'ipocrisia sociale che domina questa globalità e di ritrovare il senso del creativo e del costruttivo rispetto all'autodistruttivo che domina chi l'impegno conduce. La Basilica di San Bernardino da poco riaperta al pubblico presterà la sua facciata per motivi di solidarietà. Lunedì 8 febbraio infatti verrà illuminata di viola il colore dell'epilessia in occasione della giornata internazionale dell'epilessia. Lo spettacolo inizierà alle ore 17 ed è organizzato dalla sezione abruzzese della Lega Italiana contro l'epilessia. Un'altra delle iniziative dedicate alle persone con epilessia si svolgerà dalle 17.30 alle 19.30 nell'auditorium del Parco del Castello con video, lettura di brani e momenti musicali. Giacomo Carnicelli con il lavoro tutti a Sanremo ha vinto l'Agnesino 2016. L'elaborato era abbinato alla confraternita agli amici di Zeppetella di Torni in Parti ed è stato rappresentato ieri pomeriggio a ridotto del teatro comunale davanti a molte persone. Per Giacomo Carnicelli si tratta del quarto successo consecutivo di conseguenza poker anche per gli amici di Zeppetella di Torni in Parti. A scegliere i lavori sono state due giurie una popolare presieduta da Medeo Esposite composta da dirigenti giocatori addetti dell'Aquila Calcio e l'altra tecnica formata da rappresentanti delle istituzioni culturali e di altre associazioni aquilane coordinate da Walter Capezzali. E ora apriamo la lunga pagina dedicata allo sport. Nuova sconfitta per l'Aquila Rugby che saluta il trofeo di eccellenza con il quarto K.O. in altrettante gare. Obiettivo ora resta il campionato per cercare di trovare dei punti salvezza e la permanenza nel massimo campionato. Giorgio Alessandri. Il miracolo non è arrivato neanche l'arrivo del neo allenatore degli avanti Massimo Cuttita ha consentito all'Aquila Rugby di sbloccare la casella delle vittorie stagionali. Nell'ultima giornata del trofeo di eccellenza i Nero Verdi incassano la quarta sconfitta su altrettante gare. Questa volta vincere sul campo dell'acqua a Cetosa Roma è la Lazio che si impone 25 a 15. Un match in cui il tecnico Mercier almeno nella formazione iniziale ha dato maggior spazio alle seconde linee e a quei giocatori meno utilizzati nel campionato di eccellenza ed è proprio l'Aquila ad andare in vantaggio poco dopo l'inizio del match con una meta di Cortes che qualche minuto dopo però riesce a rimediare un cartellino giallo per proteste e a lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica subito sfruttata da Bianco Celesti che poco dopo raggiungono e superano l'Aquila nel punteggio. Sul 12 a 5 non si fa attendere la reazione aquilana che si concretizza con una meta tecnica assegnata dal direttore di gara per un fallo dei giocatori laziali su un drive aquilano a pochi centimetri dalla loro linea di meta Biffino sbaglia la trasformazione e il primo tempo si chiude sul 12 a 12 nella ripresa un altro cartellino giallo questa volta combinato a Cialone per un ingresso laterale in mischia complica la vita dell'Aquila ancora una volta i laziali sfruttano la superiorità numerica e mettono a segno le mete della vittoria finale una sconfitta che tutto sommato fa meno male delle altre soprattutto in virtù dei progressi messi in mostra nelle tusce nei drive e proprio nelle mischie sia aperte che chiuse passi avanti che dovranno concretizzarsi in punti salvezza almeno sperano società e tifosi nel match di sabato 30 gennaio con il San Donà una delle ultime occasioni utili per cercare di avvicinare i Lions Piacenza con correnti diretti per la salvezza e la permanenza nel campionato di eccellenza e rimaniamo a parlare di rugby ma della Gran Sasso Rugby una situazione nettamente diversa rispetto a quella che vive la Quilla Rugby quinta vittoria consecutiva e accesso alla pool promozione per la Gran Sasso pronta a giocarsi le sue chance per un posto nel campionato di eccellenza il servizio tutto come da copione nell'ultima giornata del girone 4 di Serie A la Gran Sasso Rugby batte nel match casalingo di Villa Sant'Angelo 22-17 in Medicei e conquista l'accesso alla pool promozione per l'eccellenza dove se la vedrà con l'Accademia Fir con il Brescia e con il Prorecco Capitolina e gli stessi Medicei Firenze mattatore del match l'ex neroverde dell'Aquila Rugby Andrea Lofrese autore di tre delle quattro mete messe a segno che ha rimarcato la superiorità del 15 Aquilano mentre il capitano Gian Pietri ha invitato tutti a godere del momento di gloria ma al contempo a concentrarsi sulla seconda parte di stagione soddisfatta ovviamente anche la presidentessa Micheli per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale inizialmente messo in dubbio da una serie di risultati negativi che hanno contrassegnato l'inizio del campionato Acqua ormai passata in casa Gran Sasso dove è stato recuperato l'entusiasmo testimoniato dalle cinque vittorie consecutive e la voglia di competere con le migliori formazioni della penisola ai playoff questa volta in Serie B anche il Paganica Rugby che tra le mura amiche batte 39 a 14 il Colleferro piazzandosi al secondo posto nel Girone Territoriale che garantisce l'accesso al Girone Promozione nel quale i rossoneri se le vedranno con Colleferro Civitavecchia Benevento Amatori Catania e Amatori Messina playout scontati invece per l'Avezzano alta formazione abruzzese di Serie B sconfitta 36 a 10 dalla Capitolina che rincontrerà negli incontri della Pulle Salvezza a cui parteciperanno anche la Partenope Napoli Corsa Catania e Reggio Calabria E ora il calcio di Serie D la Miternina vince 1 a 0 con una grande prestazione anche golla di Daniele Gizzi e si rilancia nella difficile corsa verso la Salvezza batte il Matelica seconda forza del torneo Stefano Castellani Dopo circa tre mesi la Miternina torna a vincere davanti al pubblico amico e che vittoria a capitolare 1 a 0 è stato il Matelica che perde anche il secondo posto in classifica visto che i biancorossi sono scavalcati dal Fano oltre ai complimenti per una buona prestazione ieri per la squadra di mister Angelone sono arrivati finalmente tre punti meritati infatti i marchigiani hanno tirato nella porta della Miternina una sola volta e non sono mai stati incisivi merito anche della retroguardia scoppitana che ha trovato gli giusti equilibri con l'arrivo del difensore Mucciarelli e dell'esordio del portiere Di Vincenzo per la cronaca al settimo conclusione da fuori di Moretti si distende e devia in angolo Di Vincenzo poi è la volta della Miternina al quattordicesimo sta affilata da 20 metri di Domenico Di Alessandro con la palla di poco a lato nel finale del primo tempo si rende pericoloso il Matelica al quarantaquattresimo con il folletto esposito che si libera di due avversari e dal limite sfiora l'incrocio nella ripresa gli ospiti provano ad essere aggressivi ma la difesa locale è sempre attenta le azioni degne di cronaca sono solo della Miternina al quindicesimo Torbidone riparte da dietro alla linea di centro campo arriva al limite ed esplode un sinistro che sfiora la base del palo due minuti più tardi i giallorossi realizzano la rete di vittoria grazie a un contropiede palla a Gizzi sulla fascia destra crossa al centro la soterra da due passi in fila Giordano ed è festa grande per la Miternina oggi è un'importantissima vittoria contro una grandissima squadra forse abbiamo incontrato il Matelica nel loro momento migliore quindi questo rafforza ancora di più l'importanza di questa vittoria grande prestazione dei ragazzi grande attenzione squadra sempre pronta a ripartire quando abbiamo avuto la possibilità di farlo oggi veramente impeccabili quindi credo che sia un po' la partita che adesso dovrebbe darci il morale e la forza per venire fuori da questa situazione che ci portiamo dietro da diverso tempo la domenica sicuramente non felice non c'eravamo credo non tantissimo di game ma soprattutto non c'eravamo di idee e contro abbiamo avuto una squadra che ci ha messo in difficoltà con la sua corsa per 90 minuti e è andata così venivamo da compreso la coppa da 8 vittorie consecutive e non penso che comunque siamo venuti qua con nessun tipo di presunzione è che a volte ci sono domeniche così in cui le cose che pensi di fare non ti riescono un po' per demerito un po' per merito degli avversari è tutto io vi ringrazio per averci seguito vi invito a rimanere su TV6 per la nostra programmazione arrivederci a tutti voi per averci seguito